Claudia, una bellissima soddisfazione essere qui al Quirinale, non è certo la prima volta, però con un film come quello dei Fratelli Manetti, 15 candidature, la tua ci voleva. Siamo felicissimi, vabbè, è ovvio che un premio così importante è sempre una festa quando viene riconosciuto con tutte queste candidature, vedremo ovviamente cosa porteremo a casa, però già il fatto che sia il pubblico, sia tutta la critica, è veramente stato un evento speciale, Amore e Malavita, io sono molto contenta perché questo personaggio l'ho amato pazzamente, sono stata travolta da Donna Maria e per me è veramente un fiore all'occhiello perché mi sono divertita tanto e gli ho dato tanta vita e tanto amore, e quindi questa sera, insomma, è già una bella soddisfazione che siamo tutti insieme qua. A Venezia abbiamo parlato di quella notte speciale in cui avete passato tutte le ore fino alle 6 del mattino per quella coreografia bellissima di Luca Tommassini, è anche un riconoscimento a tutta la fatica, anche fisica, no? Beh, è stata una nottata indimenticabile, è stato stravolgente per le ragazze che non sono abituate, tra l'altro io avevo due ballerine vicino che non sono abituate a rifare la scena da tanti punti di vista, quindi erano morte e io le incoraggiavo, quindi è tutto dire. Questa sera sarà anche un'occasione, un momento per far sentire che il cinema italiano, uomini e donne, sono compatti con questa spilletta, contro le molestie, contro le prevarificazioni, eccetera, eccetera. Per te Claudia cosa significa indossare questa spilla? Significa che siamo unite, che siamo un collettivo ed è la cosa più importante, che abbiamo un obiettivo, che è quello di sovvertire comunque un sistema in tutti i suoi aspetti, quindi non solo, soprattutto nella cultura italiana. e quindi pensiamo di far parte, c'è bisogno anche di essere comunque un esempio, un faro. Dobbiamo noi attrici, in qualche modo con la nostra capacità poi di suscitare interesse, eccetera, dire la nostra e questa sera lo faremo.